Lettori di Zero 81 News, siamo in compagnia di Olga Izzo, avvocato, giornalista e da qualche mese anche scrittrice. Questo è il suo primo figlio, possiamo definirlo così, si chiama La geografia degli sguardi, che è un libro che parla di una ragazza, Mele, delle sue avventure di vita dall'adolescenza fino alla giovinezza. Vogliamo innanzitutto chiedere ad Olga com'è nata la passione per la scrittura e poi com'è nato questo libro? Allora, la passione per la scrittura è una cosa che c'ho da sempre, che tra l'altro mi accompagna in tutti gli ambiti di vita, perché per quanto io sia un avvocato, comunque il mood della mia vita è sempre un po' scrivere, ma dal punto di vista giuridico, dal punto di vista letterario non cambia molto, la penna è il mio strumento. E niente, la passione per la scrittura la coltivo da sempre, ho sempre scritto un sacco e mi sono detta di trafondere tutto in un libro. Inizialmente non era proprio così, ho avuto una serie di cambiamenti e di revisioni, però poi è nata Amelia. È nata Amelia che è una ragazza, vuoi descrivercela, sia da un punto di vista caratteriale, sia da quelle che sono poi le sue esperienze di vita? Sì, io dico che Amelia fondamentalmente è un modello sano, nel senso che è una ragazza che racconto di un passaggio di età delicato, che è quello fondamentalmente dalla fine del liceo e dall'inizio dell'università e quindi della vera indipendenza, perché nel periodo liceale tutte le scelte sono un po' quartate, si vive ancora in un contesto di forte contestazione, sia per quanto riguarda i docenti, sia per quanto riguarda i genitori, si fanno esperienze particolari anche dal punto di vista dell'amicizia, per cui è sempre una fase delicata, almeno io così l'ho individuata la mia adolescenza, anche perché è il periodo forse di crescita maggiore, in cui tutte le esperienze e quello che fai in quel momento probabilmente ti segnano un po', cambiano un po' di te. E quindi nasce come una ragazza fondamentalmente introspettiva, ma che poi si apre al mondo in tutte le sue sfaccettature, coltivando una serie di passioni che diventeranno poi un po' quello che forse lei decide di fare da grande, quindi un sottile fil rouge articolato sul ricordo e soltanto leggendo tutto il libro, soltanto alla fine forse si comprende tutto il percorso che c'è dall'inizio. Quanto c'è di Olga Izzo in Amelia? C'è, sicuramente c'è un bel po', perché non avrei potuto scrivere di quello che non conosco, quindi le sue esperienze per certi versi sono state le mie, i posti che lei scruta e che vengono descritti sono sicuramente posti in cui sono stata anche io, che ho vissuto io e che ho sentito particolarmente miei, questi piuttosto che altri. Quindi sicuramente c'è un po' della mia esperienza, anche se ci tengo sempre a sottolineare e dire che Amelia non sono io, perché poi fondamentalmente le sue scelte o l'approccio che ha nei confronti delle varie dinamiche di vita che le si presentano fondamentalmente è diverso, non è proprio come sono io, quindi è un mix. Quando hai capito che questo libro non era più un gioco ma era un libro che poteva essere poi anche pubblicato, cioè tu quando hai iniziato a scrivere questo libro pensavi di pubblicarlo un giorno oppure hai detto lo scrivo, poi lo rilego tra dieci anni? Infatti ho cominciato a scrivere tutta una serie di pezzi, cioè questo libro è in realtà un collage di tanti pezzi scritti in posti del mondo diversi, in momenti diversi della vita, ci sono una serie di considerazioni all'interno che in realtà sono figlie del momento in cui in realtà le ho pensate e quindi anche spulciando un po' nei diari di un tempo mi sono resa conto di tutta una serie di cose, sulla linea di tutte quelle valutazioni io fondamentalmente ho costruito il personaggio, ma è stata veramente l'ultima cosa, cioè io quest'estate ho deciso quasi quasi di mandare, precisamente ti dico subito, è stato il 30 aprile del 2014 che avevo trovato per caso tornando da Roma al casello questo manifestino della Letti Editore che selezionava opere di autori inediti e l'ho trovato tipo a febbraio, c'era la scadenza il 30 aprile, io il 29 aprile ho mandato il manoscritto alla Letti, non l'ho mandato solo a loro, l'ho mandato ad altre case editrici e fondamentalmente la loro proposta editoriale è la prima che mi è arrivata, che ho firmato dopo 40 giorni, ma dopo se ne sono seguite una serie, quindi aver avuto altre proposte editoriali da quasi tutte le case editrici a cui avevo inviato il manoscritto è stata la conferma che non avevo fatto male, perché in realtà poi quando ti arriva la proposta editoriale dici oddio quasi non voglio più che lo leggano, non lo voglio più, non lo voglio più, hai paura della critica, non preferisco che rimanga nel cassetto. Quindi recentemente lo hai finito, quando hai iniziato a scrivere? Ti ricordi il primo foglio? Sì, ho cominciato sicuramente nel 2011, questo è un progetto cominciato nel 2011 che poi è stato discontinuo, ci sono stati giorni che ho scritto di più, giorni che ho scritto di meno, proprio sono andata a periodi, è molto morale, molto rimane. Episodi della tua vita di questi quattro anni hanno segnato magari anche la trama di questo libro, che magari pensavi di scrivere una cosa e poi magari hai scelto di scriverne un'altra? Guarda, più che la trama sono serviti fondamentalmente per farmi guardare con gli occhi da adulta, quindi è un romanzo diciamo di un adolescente però scritto da una trentenne, quindi sono riuscita a criticizzare maggiormente una serie di cose che a quell'età penso siano dinamiche comuni a tutti, io a volte dico che Amelia è una qualunque, sono stata rimproverata, qualcuno mi ha detto che non devo dire qualunque perché è una brutta parola, insomma è come se la banalizzassi, non la voglio banalizzare assolutamente, ma è un modo per dire che ci sono delle dinamiche che credo siano un po' comuni a tutti i giovani in quella fascia di età e l'ho capito adesso, cioè l'ho capito da grande, per cui io ho fatto un viaggio indietro nella memoria del mio tempo e sicuramente adesso, gli occhi di adesso e la maturità di adesso mi hanno permesso di criticizzare in maniera diversa Cosa che facevi anche tu da più piccolo, e la geografia degli sguardi è un titolo molto particolare, perché hai scelto proprio questo? Perché è la geografia degli sguardi che si perde nel tempo, è la geografia degli sguardi delle persone che si perde nella geografia dei luoghi perché incontriamo tantissime persone, tantissimi sguardi, in particolare c'è qualche aneddoto particolare, un romanzo sul ricordo cioè Amelia ricorda un po' di persone che l'hanno attraversata, in momenti diversi della vita e in posti diversi e quindi mi piaceva sottolineare che in luoghi diversi della memoria si incontrano degli sguardi che si perde un po' nella geografia sia del tempo che dei luoghi, quindi ho giocato su questa cosa, la geografia degli sguardi nella geografia dei posti Sguardi che poi restano costanti anche nel tempo, Amelia aveva delle passioni, aveva un fidanzato, vogliamo brevemente parlare di questa ragazza? Allora sì, Amelia aveva certamente, ah certamente delle passioni, ne parlo come se fosse presente Come se esistesse, un po' esistesse Un po' sì, un po' sì, sì sicuramente ha delle passioni, lei in realtà ha scoperto il mondo della fotografia soltanto a danza perché è una ballerina professionista mancata e nella dinamica poi della scoperta del movimento lei si avvicina alla materia fotografica perché le piaceva fissare le immagini che vedeva quindi è tutto un collegamento, cioè una passione tira l'altra fino a costruire una personalità articolata ma sicuramente un modello positivo, cioè una ragazza che al di là delle indecisioni e delle vicissitudini che ti capitano in quella fase di vita in cui veramente non sai che vuoi, come lo vuoi, che cosa vuoi fare che cosa farei domani, ti ricordi che hai fatto il giorno prima è un modo per dire ai ragazzi che insomma uno poi le proprie passioni pure le deve coltivare i sogni nel cassetto, io poi sono una fautrice insomma di questa cosa possono anche essere soltanto sogni, possono anche non diventare la tua ragione di vita o il tuo mestiere però io sono una che col suo mestiere si finanzia l'arte ed è una cosa che mi piace assai quindi per quanto sia innamorata comunque della professione legale perché ci sono delle cose che mi piacciono molto, altre che mi piacciono di meno l'animo poi artistico è sempre quello più preponderante quindi dico quello mi serve per quello ed è un po' quello che emerge forse anche da Amelia Olga in chiusura, prossimi appuntamenti per questo libro e se magari c'è in qualche cassetto qualche appunto che presto potrebbe essere messo insieme per un altro libro ora è troppo presto per pensare a un altro libro, sto ancora promuovendo questo sicuramente il 7 marzo vi aspetto tutti all'ex carcere mandamentale di Nola perché in occasione del mese sulle donne abbiamo organizzato con l'assessore alla cultura che mi ha concesso questo privilegio di organizzare una piccola presentazione del libro all'interno del carcere tra l'altro abbinata a una mostra fotografica relativa alle donne, ai volti delle donne nel mondo quindi è particolarmente inerente praticamente con la tematica del libro nonché a una degustazione di vini con i nomi delle donne perché ci piace, insomma ci è piaciuto concertare tutta la dinamica donna in questo evento e poi sarò il 14 alla libreria Io ci sto a Via Cimarosa a Napoli con un altro parterre e con una giornalista di Camale 21 e sto aspettando conferma per o il 20 o il 21 marzo a Villa Bruno a San Giorgio quindi insomma la scaletta è abbastanza fitta è abbastanza impegnativa, è meglio così è meglio così e ci proviamo e vedremo ok io ti ringrazio per questa piacevole chiacchierata se vuoi dare un saluto al lettore di 081 Agnoso ragazzi io vi saluto, leggete il mio libro magari vi piace, magari no, aspetto i commentini e se mettete il like alla pagina su Facebook alla Geografia degli Sguardi riuscirete ad essere aggiornati su tutti gli eventi e tutto quello che riguarda il libro da pezzi del libro, fotografie, book trailer, eccetera eccetera grazie a tutti